Se anche tu come me ami guardare film e serie tv ad alta definizione sul tuo pc con windows 11 oppure windows 10 ti sarai sicuramente accorto che alcuni video non si aprono correttamente e ti appare invece il messaggio è necessario un nuovo codec per riprodurre questo elemento ebbene questo è un problema molto noto e dipende appunto dalla mancanza di un codec per il formato high efficiency video codec altresi detto h265 la soluzione più semplice rapida chiaramente di pagare 0 99 euro come ti propone lo stesso player multimediale di windows però se per qualsiasi motivo non riesci ad acquistare perché magari non hai la carta di credito oppure semplicemente vuoi un'alternativa a questa modalità seguimi prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolub.it con la procedura passo passo i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno bene allora cosa possiamo fare per risolvere questo problema e riprodurre il nostro filmato beh chiaramente possiamo scegliere di acquistare il codec a 0 99 centesimi se possiamo farlo oppure ci sono alcune alternative torniamo al nostro articolo su turbolub.it barra 2402 eccolo qua e scorriamo un pochino in basso infatti è importante parlare di questo estensione video h e vc del produttore del dispositivo infatti non tutti sanno che oltre al pacchetto ufficiale che ci suggerisce microsoft ne esiste anche un altro che si chiama appunto estensioni video h e vc del produttore del dispositivo che fino a poco tempo fa era completamente gratuito e ora ho spiegato tutta la storia nell'articolo testuale però la versione super sintetica è che fino a tempo poco tempo fa questo pacchetto alternativo poteva essere scaricato da chiunque e permetteva appunto di riprodurre i file in formato h265 in modo del tutto gratuito ora microsoft ha chiuso i rubinetti e quindi questo pacchetto non è più immediatamente disponibile però però c'è un però in realtà se hai già ottenuto questo pacchetto in passato magari non te ne ricordi potresti averlo disponibile nella tua raccolta e quindi potresti ancora installarlo anche se hai già cambiato pc per verificarlo quindi apriamo il nostro microsoft store eccolo qua e poi clicchiamo rapidamente sull'icona raccolta qui in basso per accedere a tutte le app che abbiamo acquistato oppure ottenuto in passato a questo punto per facilitarci la considerazione clicchiamo qui ordina per nome e proviamo a vedere se nella lista delle nostre applicazioni è presente anche estensioni video e h e vc del produttore del dispositivo eccolo qua come vediamo io l'avevo acquistato l'avevo ottenuto addirittura nel 2018 ai tempi di windows 10 e quindi posso cliccare qui su questa nuvoletta per scaricarlo ed installarlo automaticamente ora se io procedo e clicco qui il codec viene scaricato e potrò così immediatamente riprodurre il mio filmato senza fare altro ciao scusa per l'interruzione se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre davvero estremamente importante quindi grazie grazie davvero se troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella torniamo al video anche in caso comunque il pacchetto non sia presente nella tua raccolta ti consiglio comunque di provare tanto ci vuole solo un secondo a vedere se per qualsiasi motivo riesci ancora ad ottenerlo da microsoft store quindi torna qui nel nostro articolo 2402 su tourblab.it a questo punto segui questo collegamento estensione video a che è il vc del produttore del dispositivo e dovresti arrivare su microsoft store eccolo qua mettiamo la finestra a tutto schermo perché appunto in questa sezione in questo momento mi dice riscatta un codice che è un segnale che su questo particolare pc io non potrei ottenere il codec tramite microsoft store in alcune circostanze però potresti trovare che al posto appunto di riscatta un codice qui c'è scritto ottieni a questo punto potrai ottenere una schermata come questa ovvero cliccare sul pulsante ottieni e quindi cliccare installa avrai così installato il codec sul tuo pc e potrai riaprire il tuo filmato se neanche questa soluzione funziona è giunto il momento di usare le maniere forti ovvero installare il pacchetto per la decodifica manualmente torna quindi di nuovo qui su tourblab.it barra 2402 qua sopra in alto come vedi ci sono due collegamenti ecco scritto scarica le estensioni video h e vc in apx 64 bit oppure in versione a 32 bit ora devi scegliere la versione che è compatibile con il sistema operativo in uso in particolare ti ricordo che se hai windows 10 puoi avere un sistema operativo sia a 32 bit sia a 64 bit lo devi verificare oppure se hai windows 11 come in questo caso è sicuramente a 64 bit perché windows 11 è appunto disponibile solo in versione a 64 bit a questo punto quindi scarica il pacchetto seguendo il link ti verrà proposto appunto un file come questo che dovrai aprire eccolo qua sto aprendo quindi il mio file e a questo punto posso cliccare appunto installa per procedere con l'installazione mentre appunto l'esecuzione dell'applicazione va avanti e il codec viene installato sul pc ecco qua che ha già finito vale la pena di fare una considerazione per quanto riguarda la sicurezza di questo pacchetto in versione super sintetica questo pacchetto è completamente sicuro perché si tratta di un pacchetto che ha la firma digitale di microsoft e quindi è autentico ed è al 100% lo stesso che potresti recuperare tramite microsoft store anche perché i file con estensione appx appunto come il pacchetto che abbiamo appena scaricato nella configurazione di default di windows sono installabili solamente se sono appunto originali microsoft se non sono stati firmati digitalmente da microsoft invece l'installazione proprio non funziona del tutto bene appunto torniamo a noi ha finito l'installazione del nostro codec quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente chiudere il nostro lettore multimediale tornare al nostro file provare nuovamente ad aprirlo come abbiamo fatto prima eccolo qua infatti funziona tutto correttamente esattamente proprio come ci aspettavamo se vuoi ancora un'altra alternativa per riprodurre i filmati h265 sul tuo pc senza acquistare l'estensione di microsoft dal microsoft store un'ottima soluzione appunto è sicuramente il buon vecchio vlc media player che supporta e fornisce nativamente in modo integrato un decodificatore appropriato quindi io qua ti ho lasciato i collegamenti per scaricare vlc media player quindi la versione installabile oppure la versione portable che è generalmente quella che io preferisco perché ti permette appunto di avere a disposizione tutto il programma senza bisogno di installarlo quindi ti basta seguire il link cliccare qui download from portable apps.com e ti verrà appunto scaricato a questo punto possiamo selezionare eccolo qua italiano e procedere con la scompattazione ed ecco qui che è tutto pronto a questo punto vado ad eseguire il mio programma e a questo punto l'unica cosa che mi rimane da fare è prendere il mio file trascinarlo su vlc media player eccolo qua e come per magia anche se non avessi installato il codic il codec comunque la riproduzione avviene correttamente se ancora non sei soddisfatto nell'articolo su turbop.it ho lasciato ancora un altro paio di programmi sicuramente il 5k player che appunto ho recensito su turbop.it qualche tempo fa funziona veramente molto bene te lo consiglio oppure c'è anche il vecchio media player classico on cinema che funziona correttamente anche se non lo raccomando per il semplice fatto che lo sviluppo è stato interrotto dal 2017 se prosegui che nell'articolo su turbop.it ci sono ancora alcune informazioni in particolare ti ho linkato questa pagina alla quale puoi trovare alcuni file in formato h265 con i quali puoi smanettare e puoi provare la compatibilità del tuo pc bene da zona di turbop.it è tutto come al solito fammi sapere nei commenti qua sotto se sei riuscito a riprodurre il tuo file se hai avuto problemi e quale delle soluzioni che ti ho proposto nel video hai scelto per la tua situazione mi raccomando fammi sapere tutto quello che ti passa per la testa nei commenti come al solito invece se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere per me è sempre estremamente importante quindi grazie grazie davvero un anticipo se troverai un secondo per farlo se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia quindi windows come oggi ma anche linux internet bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco mi raccomando non dimenticare la campanella al prossimo video ciao